Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. In merito alla vita privata e sentimentale, il noto presentatore ha preferito mantenere sempre un cauto riservo. Dopo lunghi trascorsi da Latin Love, alla fine Carlo Conti decise di mettere su famiglia nel 2012 convolando a nozze con Francesca Vaccaro. Ma chi è questa donna che è riuscita a rubare il cuore del noto presentatore? Stilista classe 1972, Francesca Vaccaro è un ex costumista della RAI che il comico toscano ha conosciuto dietro le quinte Domenica Inna. Fu proprio al lavoro che tra di loro scoccò la famosa scintilla. Dalla loro unione è nato nel 2014 il figlio Matteo, di cui il noto presentatore a Domenica Inna aveva detto Matteo è il frutto perfetto dell'amore. Matteo si chiama così perché significa dono di Dio ed è stato un dono di Dio. Quanto alle nozze in tarda età, Carlo Conti aveva dichiarato i vantaggi di un matrimonio posticipato, tante avventure. Oggi il noto conduttore toscano è innamoratissimo della sua Francesca, con la quale si mostra spesso felice sui social nelle loro tante fughe romantiche.